Intervento serale del sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, in diretta su Cilento Channel, avvenuto in seguito ad una giornata di lavoro per le forze politiche agropolesi che si sono riunite nuovamente per elaborare le proposte per la ripartenza della città. Oggi c'è stato un tavolo politico con maggioranza e opposizione che ha avuto l'intenzione di mettere tutte le idee per la ripresa su un documento unico. È stato un lavoro intenso, dichiara Coppola, abbiamo fatto un buon lavoro che fra poco tempo diverrà un importante risultato. Negli argomenti trattati c'è la battaglia sull'ospedale da continuare, la pulizia delle spiagge e una balneazione su più zone, ma anche la chiusura al traffico del lungomare San Marco per consentire ai commercianti di avere maggiore spazio. Abbiamo tenuto presente tutte le idee arrivate da altre forze politiche e dalle associazioni. Sono state messe in un documento che credo sarà deliberato all'unanimità e ne sono contento. Oltre al lavoro dei tavoli tecnici, il sindaco ha commentato anche l'andamento della prima giornata della consegna delle mascherine. Abbiamo distribuito abbastanza bene, afferma il primo cittadino. Ieri mattina in alcune sedi si è partiti con qualche minuto di ritardo per problemi con altre mascherine messe a disposizione dal comune. I primi utenti non hanno avuto le mascherine in più e possono richiederla da venerdì. Ci può essere stata qualche imprecisione, un po' di fila, ma poi si è riusciti a smaltire più velocemente. Nella giornata di ieri sono state 2.000 le persone servite, quindi più o meno circa 4.500 mascherine distribuite. Adamo Coppola in chiusura ha anche confermato la rimozione di tutte le varie barriere stradali e delle limitazioni sulle uscite per la spesa. Riguardo il cimitero, il sindaco ha annunciato che ci si potrà accedere da lunedì a sabato dalle ore 9 alle ore 12, previa prenotazione telefonica e non più di 20 persone all'ora. Grazie a tutti.